Eccoci qua signori, ben ritrovati. Oggi vediamo il sistema di gestione del capitale nel mondo degli investimenti sportivi, sul petting, il migliore, il migliore, ripeterò all'infinito, il migliore sistema tra i più conosciuti per gestire al meglio quella che è la nostra cassa, quello che è il nostro capitale. Sto parlando dell'anti-Martin Gala. Inizio subito con delle precisazioni forti. Come al solito vado a smentire tutti coloro che dicono falsità, i ciarlatani di questo settore, coloro che ovviamente non possono parlare perché non hanno risultati operativi, ma soprattutto diffondono cattive informazioni e non aiutano gli scommettitori amatoriali, coloro che vogliono tentare o che comunque vogliono guadagnare con le scommesse, non aiutano tante persone che vogliono vivere di questa professione. E quindi c'è bisogno di fare una corretta informazione, c'è bisogno di andare a smentire chiaramente con i fatti, con i numeri, con i risultati, con la matematica, tutti questi ciarlatani, al fine di aiutare gli scommettitori amatoriali a vincere il denaro dalle scommesse, ma soprattutto a limitare il più possibile le perdite. Perché il mondo degli investimenti sportivi si basa su una semplice logica, sostenere un rischio accettabile sul proprio capitale, o meglio il proprio capitale deve essere tutelato dal punto di vista del rischio. Adesso andremo a vedere nel dettaglio cosa vuol dire. L'anti-Martin Gala è per eccellenza uno dei money management, anzi l'unico money management che ha una struttura molto molto particolare che permette una corretta gestione del capitale, una struttura che vedremo nelle prossime slide. Quindi l'anti-Martin Gala è a tutti gli effetti, fra i sistemi di gestione del capitale più conosciuti, il migliore sistema. E quindi andremo a scapire adesso il perché, e quindi è utile ed anzi è quasi obbligatorio conoscerlo e utilizzarlo, implementarlo all'interno di una strategia di betting. Iniziamo subito a smentire i ciarlatani. E allora, anti-Martin Gala, vincere sfruttando la corretta gestione del denaro? Vi dico subito signori che è una chimera. Perché è una chimera? Perché, semplicemente, se il vostro betting è fallimentare, non avete un sistema di analisi corretto, e quindi le vostre operazioni non hanno valore sul mercato, voi perderete sempre denaro. E quindi è assolutamente inutile concentrarsi sulla questione del money management, della gestione del rischio, della gestione del capitale, perché non è quello il vostro problema. Perché avete un problema ancora più importante, perché avete delle competenze probabilmente non necessarie, o meglio, avete delle competenze non sufficienti, scusatemi, per vincere, per guadagnare del denaro delle scommesse, oppure non avete un sistema vincente. Quindi, il money management serve a tutti coloro che hanno un betting vincente, che però va ottimizzato, e che quindi l'anti-Martin Gala rappresenta assolutamente un sistema di gestione del capitale che permette di migliorare quello che è il betting già vincente di uno scommettitore, e permette di ottimizzarlo in modo tale, ovviamente, l'obiettivo è sempre il solido, signori miei, è quello di guadagnare il più possibile. Andiamo avanti. Credi agli unicorni? Signori, credete sia possibile volare su una scopa? Pensi che il betting sia un film alla Walt Disney? Purtroppo i charlatani cercano di vendervi questo modo, prima di tutto, di vedere le cose, di vedere il betting, perché prendendo il betting a un mo' di bella favola, è più facile per loro andare a colpire sul vivo, a fregare il denaro, a dei semplici scommettitori amatoriali che cercano giustamente una guida competente, che purtroppo nella maggior parte dei casi non la trovano. Quindi, abbandona tutte le favole che ti hanno raccontato fino adesso e vediamo il perché. Andiamo avanti e dimentica, ovviamente, il mondo di Walt Disney, perché nel mondo degli investimenti è totalmente lontano dalla favola del vissero felice e contenti. Andiamo avanti. Mi dispiace, ma ovviamente il betting è tutta altra cosa. E qui ti mostro i profitti che ho realizzato con un solo match di tennis circa due giorni fa. Ovviamente, come al solito, ci tengo a mostrarti i risultati. E andiamo avanti. La verità è semplice, signori. Se il tuo betting non è vincente, cioè se a massa pari non sei vincente, non esiste nessun money management al mondo capace di farti guadagnare dalle scommesse. Dimentica la roba automatica, dimentica tutto quello che può essere la gestione del capitale perfetto, perfetta, perché non esiste. Dimentica le favole che ti hanno raccontato fino ad ora. Perché se non riesci a dimenticare queste favole, sostanzialmente queste sporche verità, quindi non sono delle verità, ma sono delle menzogne su questo mondo, non potrai mai avere la testa libera per poter guadagnare da questo mondo, ma soprattutto non avrai mai l'atteggiamento mentale che è tipico di un professionista, l'atteggiamento mentale di colui che conosce la matematica di base, che conosce e va ad attribuire il giusto valore alle operazioni di mercato, alle quote sul mercato, colui che cerca il valore sul mercato, e quindi va a cercare gli errori di prezzo, e gli riprezzamenti, diciamo così, sbagliati, pensate che è una parolaccia, però comunque gli errori di prezzo nella quotazione delle quote, appunto. Quindi, questo è veramente molto importante. Andiamo avanti. Dimentica in tutti i modi, signori, voi dovete dimenticare in tutti i modi, e ovviamente questo è il famoso film Man in Black, dove abbiamo degli attori molto molto giovani, eppure io ero parecchio ragazzino. Adesso che sei libero, signori, adesso che sei libero possiamo procedere, andiamo avanti, e prima di dirti di entrare nel vivo dei discorsi, di spiegarti come funziona l'artima art in gala, e premetto che vedremo come funziona a livello pratico, quindi non parliamo solo dell'aspetto teorico, ma parliamo anche di come impostare correttamente l'anti-mart in gala, di come iniziare fin da subito a gestire correttamente il proprio capitale, e questo è l'obiettivo di oggi, con questa slide, con questo video, e poi ti girerò, quindi inoltre lo trovi in descrizione a questo video YouTube, il file Excel con cui puoi impestare automaticamente il tuo sistema di gestione del capitale vincente. E allora, prima di fare questo però, entra nella community, siamo tutti dei grandissimi pazzi, amanti del betting, ma soprattutto abbiamo la forte aspirazione di voler guadagnare alla grande con le scommesse sportive, e per alcuni di noi professionisti è possibile, anzi ci si riesce tranquillamente, vediamo adesso come entrare subito a far parte della community, è molto semplice, iscriviti al canale YouTube e mi raccomando, clicca sulla campanellina, perché è l'unico modo per conoscere le informazioni di chi, come il sottoscritto, guadagna realmente dai mercati sportivi, ha guadagnato decine di migliaia d'euro sul tennis betting, quindi sui mercati sportivi del tennis, quindi le mie informazioni, quello che ti darò in questi video, che ti sto dando in questi video, sono informazioni di una persona che sa quello di cui parla, che vive tutti i giorni all'interno del mondo degli investimenti sportivi, che tocca con mano tutti i giorni il betting, che investe e punta il suo denaro sui mercati sportivi, e che quindi conosce non solo queste che sono aspetti pratici di gestione del capitale, che ovviamente di cui nessuno ti parla, e è ovvio che sia così, visto che l'antimarticale è un sistema professionale e qui di professionisti non ce ne sono, ma è importante capire che in questo sistema c'è anche tutta quella che riguarda la psicologia, soprattutto nel primo step, nella fase amatoriale di uno scommettitore, che ovviamente ho passato, ho vissuto e tutt'oggi vivo nel mondo dei mercati sportivi. E quindi, mi raccomando, iscriviti al canale YouTube, è il classico pulsante rosso, e clicca sulla campanellina, che è fondamentale per ricevere le notifiche di questi video, e soprattutto le notifiche di video in diretta, perché, signori, cari, dal 22 giugno in poi, saremo in diretta, e quindi potrete tranquillamente scrivermi in diretta, e parleremo di tutto quello che volete. Andiamo avanti, ed entriamo nel vivo dell'argomento. Anti-Martin Gala. L'anti-Martin Gala, signori, è una strategia di gestione del capitale, che permette, cosa molto importante, di limitare i rischi di perdita in un sistema di investimento. Quindi, signori miei, noi andiamo a gestire il nostro capitale per limitare l'esposizione a rischio. Esposizione a rischio, andatemi un secondo, vi chiudo questa finestra, esposizione a rischio, che è molto importante, perché il nostro capitale deve essere disciplinato secondo una serie di regole che abbiamo già visto in un altro video dove ti parlo del money management, proprio ti spiego cos'è il money management, come utilizzarlo, e ti do tre tipi di money management che puoi utilizzare in forma di essere di accumulo. L'anti-Martin Gala è una strategia di gestione del capitale. Quindi, gestisce quello che è il nostro investimento sul mercato. Ovviamente, per capitale non si intende un capitale enorme, come già ho spiegato, si intende un capitale anche semplicemente di mille euro, anche se la parola capitale è, diciamo, sprecata, per un capitale così, per un ammontare in denaro così piccolo, parliamo di cassa. Parliamo di budget. Andiamo avanti. Anti-Martin Gala come funziona? Signori, quando voi applicate il sistema anti-Martin Gala, dovete sapere che l'anti-Martin Gala è studiata per diminuire lo stake, per diminuire la puntata sull'operazione successiva dopo una perdita e, al contrario, nel momento in cui andiamo a vincere, aumentiamo la percentuale, aumentiamo lo stake di puntata sulla nuova quota di mercato. Adesso sembra un po' confusionario, andiamo a vedere nel dettaglio come funziona. prima con le prossime slide e poi con l'esempio pratico. In pratica, con la strategia anti-Martin Gala si cerca di sfruttare i periodi positivi, quindi, aumentando l'aggressività delle nostre puntate, quando ovviamente vinciamo, e limitandone quando invece perdiamo. Quindi, siamo più aggressivi quando siamo forti dei risultati quando stiamo vincendo, siamo meno aggressivi quando i risultati sono negativi. Questa scelta, ovviamente, ci permette di modificare il valore del nostro investimento. Perché? Perché nel momento in cui, come vedi in questa slide, questa scelta di modificare il valore delle giocate permette di operare utilizzando una percentuale del proprio capitale che risulta sempre in percentuale con il capitale totale. Mi spiego meglio. Vuol dire che noi, con l'anti-Martin Gala, andremo ad investire una percentuale fissa del nostro, attenzione, percentuale fissa, non stake fisso, percentuale fissa del nostro capitale su ogni singola operazione di mercato, su ogni singola posizione che prendiamo sul mercato. Andiamo avanti. Quindi, praticamente, le tre regole fondamentali per poterle sintetizzare così, su cui si basa la struttura, la strategia, il sistema dell'anti-Martin Gala sono questi. Dopo una vincita si aumenta il valore della puntata in termini percentuali. O meglio, scusatemi, si aumenta il valore della puntata in base a quello che è il capitale, non in termini percentuali. Quindi, dopo vediamo le due differenze. Poi, dopo una perdita si diminuisce il valore della puntata. Sempre lo stesso discorso per diminuire l'esposizione al rischio del capitale. Terzo, la puntata è normalmente calcolata in percentuale sul proprio capitale e deve rimanere in linea con il proprio sistema di Risk Management Position Sizing. Questi due concetti li avevamo visti nel primo video dove parlavo del Money Management. E quindi, ti invito a rivederlo se riesco poi qua sopra da qualche parte ti metto quello che è il link di YouTube per vedere il video. Andiamo avanti e non si può più andare avanti perché siamo arrivati alla fine di questa slide e proprio in questo momento anzi no, scusate, infatti mi mancava una parte, eccola, trovata, infatti vi volevo far vedere prima un preliminare diciamo di quello che andiamo a fare adesso sul file Excel e andiamo a vedere l'anti-martingale applicata. in questo caso ti avevo detto che si imposta una percentuale fissa, una percentuale come anche questa foto ci chiarisce, percentuale investita fissa. Allora, per prima cosa, vedendo questa foto noi abbiamo impostato l'anti-martingale al 2%, che è un'anti-martingale che solitamente io consiglio ad esempio nel mio sistema, nel mio servizio Betteni Slide consiglio l'anti-martingale al 2% ai clienti. quindi capitale iniziale facciamo un esempio con un po' di zeri è quello a 10.000 euro che è un capitale che è il primo diciamo capitale che può iniziare a fare del vero professionismo o meglio può iniziare a impastare le mani nel professionismo perché è un capitale che anche per pressioni psicologiche e comunque per struttura e per tutto quello che riguarda la possibilità di investire e guadagnare del denaro già inizia ad essere abbastanza importante nel mondo degli investimenti sportivi quindi è già uno step sicuramente successivo a livello d'amatoriale però questo è un esempio semplicemente non è che dovete iniziare con un capitale di 10.000 euro potete iniziare anche con un capitale come ho fatto io tanto, 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 tanto tempo fa anche di 400, 500 euro anche 200 euro non vi preoccupate l'importante è prestare attenzione alle percentuali percentuali che vedremo in questo momento quindi l'antimartingala ovviamente è un sistema di gestione del capitale che puoi utilizzare con qualsiasi tipo di capitale ovviamente più è piccolo il capitale più ovviamente vedrai in termini di quantità di denaro guadagnata vedrai dei risultati non molto non molto scarsi e non molto non molto soddisfacenti dal punto di vista numerico proprio perché comunque se hai magari un capitale di datemi un secondo se hai un capitale magari di 100 euro il 2% sostanzialmente sono 2 euro quindi capisci bene che non vedrai tutte queste grandi quando vinci non vedrai tutti questi grandi movimenti o meglio non vedrai di grandi guadagni ecco 2 euro di vincita se giochi a quota 2 non è una gran cosa però a livello percentuale è importante capire quanto vale quanto vale il tuo investimento il rapporto al rischio al capitale investito alla quota e al rendimento dell'investimento stesso quindi anti-martingale postato al 2% allora signori miei non manca altro che entrare nel vivo della situazione vediamo qui in questo esempio capitale iniziale 10.000 euro percentuale investita 2 euro valore investimento iniziale ovviamente mi sembra il caso di ribadirlo non mi sembra anzi il caso di ribadirlo 200 euro quindi iniziamo subito iniziamo subito a vedere nella pratica come funziona usciamo dalla nostra famosissima slide ed entriamo qua nel nostro carissimo esempio di anti-martingale un foglio excel che spulceremo con entusiasmo insieme adesso allora iniziamo subito a vedere l'esempio è lo stesso della foto ovviamente l'ho ripresa da lì 10.000 euro di capitale 2% la percentuale investita ovviamente 200 euro perché è l'ammontare di è l'ammontare che rispecchia il 2% di 10.000 euro questo è quanto quindi andiamo a vedere insieme giocate risultato capitale numero 1 la prima giocata il risultato ovviamente è una vincita allora come vedi adesso diamo per assodato per scontato che stiamo operando sostanzialmente a quota 2 quindi con questo non ti sto dicendo che devi utilizzare la martingala solo quando operi a quota 2 su quota 2 assolutamente no ti sto dicendo che questo esempio ed è solo un esempio ribadisco per chiariti meglio le cose abbiamo l'abbiamo impostato sulla quota 2 quindi vediamo subito andiamo a giocare il 2% di 10.000 euro che sono 200 euro per fare questo semplice calcolo cosa devi fare devi semplicemente prendere il capitale quindi 10.000 euro moltiplicarlo per 2 e dividerlo per 100 quindi 10.000 euro per la percentuale investita per 2 diviso 100 e ti uscirà fuori il famigerato valore iniziale di 200 euro quindi la nostra prima operazione di mercato la nostra prima operazione di mercato vede 200 euro di investimento ok signori quindi cosa succede succede che la prima operazione di mercato risulta vincente lo vediamo da questo esempio da questo file ex quindi è vinta vinta ovviamente noi abbiamo operato a quota 2 200 euro per 2 fa 400 in questo caso 200 euro sono l'investimento la puntata iniziale 200 euro invece sono di guadagno il nostro capitale arriverà a una montagna di 10.200 euro quindi in questa particolare situazione noi abbiamo vinto e siamo in attivo cosa succede nel momento in cui andiamo a perdere perdiamo la nostra scommessa in questo caso quando noi abbiamo iniziato abbiamo deciso di puntare nella giocata diciamo numero 2 noi abbiamo detto ok voglio investire il sempre ovviamente perché questa è la strategia il 2% del capitale attuale perché l'anti-martingala gioca così sostanzialmente è strutturata così bisogna giocare una percentuale fissa in questo caso nel nostro esempio il 2% in base al capitale attuale al capitale che possediamo al momento quindi noi abbiamo vinto ovviamente la prima scommessa e quindi abbiamo un capitale di 10.200 euro e dobbiamo calcolare il 2% su quello stesso capitale ok quindi il 2% sono 204 euro e infatti cosa succede succede che nel momento in cui perdiamo il nostro capitale scende ovviamente di valore scende di ammontare a 9.996 questo è il concetto abbiamo perso sostanzialmente cosa andremo a fare e qui rientra il concetto di prima cioè nel primo caso nella giocata numero 1 noi che cosa abbiamo fatto abbiamo aumentato la puntata perché perché abbiamo vinto quindi abbiamo giocato il 2% di 10.200 euro nel caso in cui invece sosteniamo una perdita il nostro capitale accusa una perdita abbiamo perso abbiamo perso e giochiamo il 2% di un capitale ridotto rispetto a prima anzi in questo caso è ridotto rispetto al capitale di partenza che era 10.000 euro quindi andiamo a diminuire l'esposizione al rischio o meglio non andiamo troppo a diminuire l'esposizione al rischio ma andiamo ad investire un ammontare in percentuale identica a quello che è sempre il nostro capitale quindi sempre il 2% vediamo infatti il caso in cui noi vinciamo ovviamente la nostra operazione numero 3 e saliamo il nostro capitale sale di valore allo stesso modo l'operazione numero 4 decidiamo di investire ovviamente quello che è l'importo che questa operazione che questo capitale ci ha consentito di investire sempre ovviamente sale sale il nostro capitale continuiamo a vincere poi appena iniziamo a sostenere delle perdite il capitale diminuisce per poi nuovamente salire con delle vincite e poi ovviamente tornare questo è il caso in cui torna in attivo a un massimo di un massimo in realtà raggiunto a 10.400 però un massimo un massimo diciamo relativo raggiunto al 10.379 per poi accusare un ulteriore perdite ma in 15 step sostanzialmente noi abbiamo registrato un profitto pari all'1,71% del nostro capitale questo è quanto signori miei ovviamente ripeto state molto attenti perché questo è un ottimo sistema di gestione del capitale fate molta attenzione non sottovalutate i vostri capitali non sottovalutate la possibilità di utilizzare questo sistema di gestione del capitale anche per capitali che hanno un ammontare inferiore ai 1000 euro signori l'importante è avere cura delle percentuali prestare attenzione al capitale prestare attenzione a quello che è il rendimento del capitale poi parleremo anche del concetto di yield molto molto fedele al mondo degli investimenti sportivi sportivi al mondo del betting e nei prossimi video tratteremo in maniera dettagliata altri tipi di money management che in realtà sono fallimentari che in realtà sono ingannevoli mentre questo come avete visto nel momento in cui io subisco delle perdite vado a diminuire quello che è la mia puntata iniziale nel momento in cui io vinco aumento ovviamente la mia puntata su ogni singola operazione questo mi permette di gestire molto meglio le perdite di preservare molto meglio il capitale e come vedi posso sostenere anche una striscia di loss di sconfitte importante senza andare a intaccare senza andare a distruggere totalmente quella che è la possibilità del capitale di crescere nuovamente e di superare quello che è le aspettative di profitto sostanzialmente quello di superare di andare in profitto di ottenere guadagno quindi questo è un money management conservativo che ti permette di possiamo dire dormire sogni tranquilli anche se nel mondo degli investimenti sportivi è una è una frase questa che lascia veramente il tempo che trova perché in questo mondo devi vivere per forza e devi sognare tranquilli devi dormire in maniera tranquilla perché se no fa una finaccia indipendentemente dal capitale di cui disponi per questo uno dei consigli che do sempre ai miei clienti è quello di investire il denaro che possono permettersi di perdere non perché ovviamente lo perderanno ma perché è importante a livello psicologico avere una sorta di garanzia sul fatto di poter perdere quel denaro quello che ti sto dicendo in questo video è che comunque l'antimartingala rappresenta uno dei migliori se non il migliore anzi a mio dire il migliore e non solo io lo dico lo dico tanti altri professionisti nel mondo degli investimenti sportivi e lo dicono anche grandi investitori appunto nel mondo del trading finanziario è un ottimo è un eccellente sistema di gestione del capitale l'antimartingala che permette di ottimizzare quello che sono appunto il tasso di rendimento quello che sono praticamente il rapporto del capitale in relazione ai rischi e ai rendimenti quindi quindi signori miei fatene buon uso fate i bravi fate i buoni come diceva una vecchia pubblicità e mi raccomando iscrivetevi al canale youtube lasciate like perché mamma mia questo canale youtube rivoluzionerà per informazioni e contenuti e per ovviamente anche per i risultati che mostro rivoluzionerà questo mondo soprattutto purtroppo in italia che è molto indietro rispetto ad alcuni paesi dell'unione europea signori io vi saluto vi rinvio ai prossimi video e vi auguro un grandissimo betting e soprattutto un profittevole betting quindi Grazie.